ciao a tutti oggi vi insegno a disegnare su ibis paint ecco l'app ibis paint per se vi ricordate con questa app ho fatto un altro tutorial cioè come fare le flag map ed era sempre la stessa app vabbè dopo che abbiamo installato la nostra app ci clicchiamo sopra andiamo sulla mia galleria e guardate qui ho già fatto dei disegni oggi io vi insegnerò a disegnare dei country balls clicchiamo sul più per creare un nuovo progetto scorriamo tutto o magari mettiamo la grandezza della tela io la metto quadrata e poi clicchiamo su ok dopo che abbiamo sceso giù ok e poi iniziamo a disegnare il cerchio della country box allora si va qui sul righello poi si clicca questa specie di cerchio e noi lo mettiamo grande più o meno così poi il nostro pennello che da qua si regola la dimensione deve stare a 3.4 ora lo regolo guardate 3.4 poi il tipo di pennello che si va a cambiare da qua deve essere il pennello morbido il pennello morbido perfetto il tipo di pennello che serve è il pennello morbido qua ci dice se guardi il video puoi usare tutti i pennelli a pagamento per 18 ore io non lo voglio fare però se voi lo volete fare cliccate tranquillamente su ok cancellare io invece va bene ci serve il pennello morbido iniziamo a fare il cerchio così più o meno o forse un pochino più grande e poi come nel mio caso se avete sbagliato grandezza del cerchio ci sono questi due tasti uno per tornare indietro che è questo qua e uno per andare avanti come prima che è questo qua perfetto ora clicchiamo qui per togliere il reghello e mettiamo off guardate che qui ci stanno due off noi dobbiamo cliccare quello che corrisponde allo strumento che abbiamo usato ad esempio se lo strumento che abbiamo usato è questo è allineato a questo off e noi dobbiamo usare questo off per spegnerlo visto? poi andiamo sulla finestra dei livelli clicchiamo qui mettiamo qua dove c'è scritto trasformazione reticolare che non so che significa in realtà qui e poi si allarga tipo così più o meno così così e così e clicchiamo su ok questa parte verde è perfetto il cerchio non è più rotondo come prima ora andiamo sempre sulla nostra finestra dei livelli e clicchiamo su più per fare un nuovo livello che questo a noi ci serve per gli occhi ma ora lo teniamo da parte andiamo sul livello del cerchio che è ottimo poi andiamo sul livello di selezione mettiamo sul secchiello e clicchiamo su dove vogliamo selezionare ad esempio io voglio selezionare questa area per metterci una bandiera dentro questa country box io ora faccio la country box dell'Italia vabbè ora lo mettiamo sul sul livello del cerchio e ora lo mettiamo sul pennello poi da 3.4 mettiamo più o meno a un 92.0 e poi clicchiamo qua per cambiare colore a noi per l'Italia ci serve il rosso e lo selezioniamo un rosso così tipo perfetto guardate come disegno e poi vi chiederete come ho fatto a mettere l'impostazione che io inizio da fuori ma poi quando ho finito di disegnare sta solo dentro beh con il livello di selezione ho fatto questa cosa perfetto noi coloriamo qui perfetto il primo colore l'abbiamo fatto ora clicchiamo sempre su questo rosso e andiamo a selezionare il verde mettiamo più o meno questo verde bello scuro più o meno non è tanto scuro forse ci serviva un pochino più scuro perfetto guardate il nostro country box dell'Italia è quasi finito ora andiamo sulla finestra dei livelli clicchiamo sul livello di selezione e poi mettiamo la gomma la gomma deve stare al massimo e così cancelliamo in pochissimo tempo la nostra figura celeste che c'era prima che serviva per la selezione ora andiamo sul pennello andiamo sul livello per gli occhi che abbiamo conservato prima rimettiamo il nostro pennello a 3,4 un po' più grande 3,4 e poi per fare gli occhi molto precisi si va sempre sul righello sempre sul cerchio di prima lo si rimpicciolisce tanto per fare gli occhi il nostro primo occhio lo facciamo qua andiamo a riselezionare il colore nero prima nero e perfetto il primo occhio l'abbiamo fatto ora va fatto il secondo perfetto abbiamo fatto il secondo occhio ora per togliere questo strumento bisogna andare sempre sul righello e mettere off è perfetto ad esempio io volevo gli occhi più in alto questo è vero però io volevo gli occhi più in alto come si fa per spostarli? si va con il lazo si prende gli occhi si devono prendere gli occhi come ho fatto poi si clicca qui si clicca qui anzi non ho sbagliato si clicca qua e poi si sposta quanto noi vogliamo e possiamo anche ingrandirli perfetto ok questa bruttissima linea si va qui si clicca qui poi si arriva su pennello per disegnare gli occhi se voi volete gli occhi più si va già bene così ma io voglio gli occhi seri come nella mia country balls ebbene riattiviamo il righello stavolta mettiamo questo righello che è bello dritto e ora posso tranquillamente disegnare i miei occhi non vi preoccupate se l'altra parte non tocca poi si aggiusta dopo tutti i dettagli perfetto qua invece è troppo alto come vi ho detto prima dopo si aggiusta poi si riclicca qui e ora il nostro righello è allineato a questo off cioè questo è quello che dobbiamo prendere di off ora aggiustiamo i nostri occhi che fanno un pochino schifo vabbè mettiamo la gomma qui mettiamo la piccola in questo caso e guardate prima l'occhio è aggiustato invece qui mettiamo il pennello e allunghiamo un po' e ora guardate gli occhi non sono allineati che ho fatto sto dicendo gli occhi non sono allineati e per questo usiamo il lazzo io seleziono l'occhio che voglio spostare poi metto qui e lo sposto un pochino perfetto poi clicchiamo sempre qui per rimuovere la selezione poi guardate c'è questa piccola imprecisione che non so come mi è venuta fuori mettiamo la gomma e la cancelliamo la cancelliamo la cancelliamo perfetto abbiamo cancellato e ora guardate gli occhi sono perfettamente allineati ora per colorarli tutti e due di bianco come dei veri country balls andiamo sul secchiello andiamo sul secchiello dobbiamo selezionare il colore bianco a messaggio selezionato e li coloriamo di bianco gli occhi ora li abbiamo colorati entrambi di bianco ora si va sul pennello si va sulla nostra finestra dei colori si clicca su più per fare un nuovo colore per fare un nuovo layer e poi questa a noi ci serve per fare le ombre e ci serve quindi al 29% normale come si fa a farlo al 29% normale facile si va qui e si va fino al 29% perfetto noi siamo andati al 29% grazie a questa linea siamo andati al 29% vabbè togliamo la nostra finestra il pennello lo mettiamo sempre più o meno alla misura di prima forse meglio anche un po' più grande va bene così a 140% poi si seleziona il colore nero colore nero perfetto poi si va sempre sulla finestra dei livelli si va sul livello di selezione e noi per fare l'ombra agli occhi con il secchiello dobbiamo selezionare gli occhi selezionato gli occhi si va sempre sulla finestra dei livelli e si va sul livello che è al 29% normale mettiamo sempre sul pennello no ho detto sul pennello e facciamo gli occhi l'ombra agli occhi forse un po' troppo grande così un po' più piccolo perfetto così e abbiamo riempito gli occhi ora dobbiamo togliere la selezione degli occhi si va sul livello di selezione poi si va sulla gomma la gomma deve stare al massimo e si toglie la selezione si toglie poi ora dobbiamo selezionare altre parti per fare altre ombre si va sul secchiello e si seleziona a noi ci serve tutta la bandiera italiana ora da selezionare per fare le ombre ora si va sulla finestra dei layer si va sul nostro layer 29% normale questi si possono chiamare o layer o livelli quindi se pensate cosa sono i layer cosa sono i livelli beh sono la stessa cosa perfetto ora si va sul pennello il pennello deve essere più o meno 173 per fare le ombre all'Italia poi ora vi chiederete di nuovo come ho fatto a mettere questa impostazione che io disegno anche fuori ma poi rimane solo il disegno di dentro sempre con la selezione ora dopo che abbiamo fatto tutto quello che ci serviva abbiamo fatto anche le ombre come ho fatto io si va sul livello di selezione si mette sulla gomma la gomma al massimo e si cancella beh spero che questo tutorial vi sia stato utile ciao a tutti ed ecco come disegnare country balls ciao a tutti